è di Riva. Per Rombo di Tuono sarà un'annata indimenticabile, anche se non la più grande. Giunto alla massima espressione e maturità dei mezzi, sta diventando un personaggio con contorni sempre più mitici. Ormai le sue gesta non appartengono soltanto più ad una società o ad una città. Sono espressione di una intera regione, che per lui stravede ed è pronta a qualsiasi sacrificio per tenerlo in Sardegna. Ma la sua figura va ancora oltre, è patrimonio nazionale, è di tutti gli italiani. Del suo splendido torneo segnerà 20 gol, trascinando il Cagliari, il suo Cagliari, ad un incredibile secondo posto in classifica generale. Grandissimo al suo fianco Nenè, il vice Pelé nel Santos, che nell'isola ha davvero trovato una nuova straordinaria dimensione. Ma è tutta la squadra che saprà sempre essere nella presente stagione all'altezza delle grandi compagini, spesso ridicolizzandole anche sul terreno amico.